Dobbiamo agire oggi con quello che oggi è già disponibile e che ci consente di continuare a essere competitivi sia nel territorio che occupiamo ma anche verso l'estero e quindi verso tutto quel mondo che ci circonda e che sappiamo bene quanto sta diventando competitivo e difficile. Ospite oggi di interview Alessio Torelli, Chairman and Managing Director di Green Tour, società del gruppo SNAM per la diffusione di gas naturale, biometano, idrogeno e altri fuel sostenibili. Il tema è all'ordine del giorno nel processo di transizione nel settore dei trasporti su gomma ma anche nel comparto navale e le soluzioni immediate viaggiano decisamente verso il GNL. Il gas naturale è l'elemento secondo noi ideale per la transizione per due ragioni fondamentali. Primo che è disponibile già oggi, cioè esiste già una rete, esistono già delle infrastrutture quindi non lo dobbiamo cercare con l'anternino ma è intorno a noi. Secondo è competitivo, quindi è competitivo, anzi oggi lo è anche nei confronti dei tradizionali fossili quali il gasolio per esempio, è ancora più competitivo quindi è già in the money come si dice in business e quindi perché non sfruttarlo appieno perché le nuove molecole di sostenibilità che saranno disponibili nei prossimi anni oggi semplicemente non riescono ad attecchire perché hanno prezzi che non sono confrontabili con quello che è il costo attuale di quei servizi e quindi per questa ragione il GNL sicuramente dal nostro punto di vista è un elemento fondamentale per guidare e diciamo trasportarci attraverso questo periodo di transizione. Questa l'analisi sui processi di transizione per i carburanti di Alessio Torelli Chairman e Managing Director di Green Tour, società del gruppo Snam per la diffusione di gas naturale, biometano, idrogeno e altri fuel sostenibili appuntamento a lunedì per una nuova intervio al personaggio del giorno.